La Juve che ha l'occasione di raddoppiare poco dopo con la foto di Higuain a Stracoscia Il pallone però termina sulla traversa, sfortunatissima la formazione bianconera Che al 48esimo però dorme in difesa e la Lazio trova il gol del pareggio Luis Alberto per Ciro Immobile, decimo gol in campionato per Ciro Immobile Prima rende subito in casa della Juve, 1-1 dopo l'intervallo con i bianconeri non concentratissimi Al 52esimo Milinkovic lancia il mobile che viene steso da Buffon Calcio di rigore secondo Mazzoleni, pallone in rete per il 2-1 della Lazio Dopo un buon primo tempo la Juve si ritrova sotto in 4 minuti Entra Paolo Di Bala che prova a pareggiare al 92esimo Pallone che colpisce il parlo, occasione migliore per Di Bala però Arriva al 95esimo, Patrick stende per Nandeschi in aria Per Mazzoleni e per il Val e calcio di rigore Di Bala Si presenta Dalla Dischetto, mette nel birino Stracoscia che para Secondo rigore consecutivo sbagliato da Di Bala La Lazio in Francia, il Tabu Allian Stadium e la Juve cate in casa dopo 41 partite Senza sconfitta la Lazio vince 15 anni dopo l'ultima volta a Torino Allora con Ciro Immobile, Ciro ti chiedo com'è? Hai visto quei ultimissimi secondi con il VAR? Con molta ansia, è normale aspettare la decisione dell'Avila al 90esimo Di una partita giocata alla grandissima contro una grande squadra È normale che c'è l'attenzione a mille Poi Thomas ha fatto tutto con lui, è stato bravissimo Ci siamo già riusciti a portare questi tre punti importantissimi a casa La ex e due gol qui in questo stadio dove non perdiamo da 41 partite Forse neanche tu sognare una serata del genere Sì, c'è un motivo perché la Juve non perde mai qui e pareggia difficilmente Sono una grande squadra come la nostra, giocando uniti da squadra Quello che stiamo dicendo ultimamente è davvero una roba eccezionale Potevano battere questa Juve di SQI nel loro campo Quindi un applauso grandissimo a noi, al mister, a questi magnifici tifosi Tutta la grande Per chiudere, due gol in Supercoppa Italiana Due gol stasera forse la Juve ti ha lasciato andare un po' troppo in fretta No, no, ma sono felice perché la squadra mi mette in condizione Poi non penso a quello che è stato al passato Al futuro, non al tempo di pensare Abbiamo tante partite e mi godo questo magnifico presente Uno in più di Leo Messi, quindi ci parlano statunali Parlano al cielo di mobile Ma questo non crea Ma questo non crea Ma questo non crea Ma questo non crea